La lentezza burocratica, l'esigenza di maggiori finanziamenti e la necessità di una maggiore collaborazione tra istituzione e territorio sono le principali criticità relative alla gestione dei beni sequestrati e la criminalità organizzata emersa nel corso del dibattito rigenerare, riqualificare e restituire. Troppo spesso infatti la mancanza di fondi sommata all'assenza di una progettazione pregresse e alle tempistiche della giustizia italiana porta a storture. Per questo il Comune di Napoli ha voluto promuovere nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino un momento di confronto tra rappresentanti delle istituzioni ed esponenti del terzo settore con l'obiettivo di trovare nuove e più efficaci strategie per la valorizzazione delle strutture sequestrate, così da restituirle realmente alla cittadinanza. I lavori aperti dalla Presidente del Consiglio Comunale Enza Amato hanno visto anche l'intervento dell'assessore alla legalità Antonio De Jesu. Uno degli obiettivi principali da parte nostra è quella di dare una destinazione di uso sociale la più adatta possibile a quelle che sono le esigenze dei territori e quelle che sono anche le domande da parte delle associazioni. L'obiettivo è che i beni sottratti alla criminalità rappresentino un'opportunità come noi siamo convinti che siano e non una criticità che va affrontata quotidianamente. È stato invece Bruno Corda, direttore dell'Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati, a porre l'accento sul bisogno della collaborazione con i comitati e le associazioni. Si tratta di beni complessi e che hanno bisogno di una grande unità da parte delle istituzioni, da parte dei cittadini e da parte dei soggetti del terzo settore, cioè la necessità che non si possa rimanere soli in un settore di questo genere. Il bene è complesso perché molto spesso è fortemente danneggiato, il passare del tempo per quanto riguarda proprio il sistema giudiziario con il quale si arriva fino alla confisca definitiva è sicuramente molto lungo.